La colorazione meravigliosa ha sorpreso, è stupito anche noi quando l'abbiamo scoperta questa mattina, è rivista, ogni volta è un'emozione fantastica, la moto è da sempre meravigliosa e questa livrea molto preziosa la impreziosisce ulteriormente. La stagione è una stagione nuova, inizia un periodo nuovo per Aprilia e questo cambio di grafica ha voluto sottolineare anche questo aspetto. Una squadra parzialmente rinnovata, ha uno spirito che però continua con la stessa forza e competenza del passato e i risultati delle prime prove lo hanno dimostrato in maniera abbastanza chiara.